ciao questo è un nuovo video che di solito che faccio sui film che riesco ad andare a vedere che mi sono andato a vedere questo film che si chiama io il secco che è il solito film italiano che come gene tocca commedia drammatico che come stavo dicendo come paese di produzione e italiano di che la parte della regia di di questo gianluca santoni che parla più che altro magari che la sua parte che la sua data d'uscita è stato il 23 maggio di quest'anno 2024 che visto che adesso l'hanno messo sulle solite piattaforme lo sono riuscito a vedere che è stato distribuito da questa euro euro picture is che come film e due anche qui un'ora e 40 quasi quei 100 minuti più o meno che parla più che altro di danny con la i che ha dieci anni che è un padre violento e una madre che ne che ne incassa più che altro le botte il bambino coltiva il desiderio di mettere la mamma in salvo e quando la sua amica eva gli racconta di avere un cugino kill a pagamento pensa di avere trovato la soluzione ideale che dunque ed è ne avvicino il cugino di eva soprannominato il secco e lo incarca di fai fuori suo papà promettendogli un compenso che il che come si dice che il bambino preleva dalla cazzaforte del padre ma il secco è solo un piccolo delinquente che ha causato in canna l'incarcerazione del fratello maggiore e a causa della sua imbranataggine e vigliaccheria e dunque non sembra che il tipo più adatto portate a termine il l'incarico però i soldi e i soldi gli farebbero comodo dunque promette il suo aiuto a danny e intanto lo mette al riparo dai bulletti dei quartieri che gli avevano rubato la bicicletta che fra i due non può nasce e che un sodalizio che arriva a conclusioni inaspettate che magari la trama proprio in sede del film e a questa qua che visto che lo sono andato a recuperare nel guardare li volevo ti può dedicare questo video che adesso essendo un film che è uscito a maggio lo hanno messo sulle solite piattaforme adesso che lo si può recuperare anche gratis che se qualcuno ha qualche abbonamento lo può recuperare anche gratis come come film che più che altro alla trama del film ea questa fa che vi lascio come al solito tutte le informazioni sul film tra il cast video trailer e tutte le informazioni che riesco a trovare proprio sul film le trovate sotto in descrizione che anche se anche se ci sono magari attori italiani ho visto che da parte mia non ne conoscevo nemmeno uno che sono sicuramente attori nuovi e niente che li volevo visto che sono riuscito a recuperarlo nel guardare li volevo li volevo morai dedicare questo video che che solito morai film drammatico un po anche commedia come film che come al solito morai vi lascio tutte le informazioni sotto in informazione come come ho detto come ho detto mai e prima che che nel compresso come film ci poteva magari anche anche stare fra questi due magari ragazzi tra denny e questo bar tra denny e questo ragazzo che nel compresso morai come come si svolge anche la trama nel film e come sono girate le scene ci potevano magari anche stare e niente quello che potevo morai dire su questo film magari l'ho già detto al massimo ci vediamo sicuramente morai più avanti con i miei soliti video che porto morai sul sul mio canale che vi lascio morai questi cast di questi attori italiani magari vi lascio come al solito sotto in sotto in descrizione che quello che potevo dire su questo film l'ho già detta e niente per adesso morai vi saluto ci vediamo al prossimo video ciao ciao